Ciao a tutti, bentornati alla mia cucina. Oggi è l'ultima festa e noi vogliamo fare delle calzette piccoline ripiene di Nutella per i bimbi magari. E allora, abbiamo del pane al latte, intagliamo una calzetta, io vado ad occhio. Qua tagliamo lo spigo e ne facciamo un'altra, la mettiamo qua sopra, uguale a questa, della stessa dimensione. Ed ora al centro di ogni calza mettiamo della Nutella, spalmiamo un pochettino, ora mettiamo un pochettino di tuorlo qua a giro della calzetta e posizionate l'altra sopra. Con una forchettina chiudiamo tutti i lati. Potete piggiare anche con le mani in modo che aderisca per bene. E poi spennelliamo con il tuorlo. Ed ora con delle gocce di cioccolato abbediamo la nostra calza. Ed ora inforniamo a forno caldo 180 gradi per 20-25 minuti, anche 15, dipende dai forni. Quando si diventano leggermente dorati già sono pronti. Io lo continuo a fare gli altri. Ed ecco pronte le nostre calze, deliziose come gusto e semplici da fare. Io mi auguro la ricetta che vi sia piaciuta, una buona befana a tutti, da Francesca e Salvatore è tutto, ciao alla prossima.